Ciao, benvenuto qui sul canale di infodrones.it Oggi vediamo insieme cosa fare nel caso in cui il tuo smartphone abbia i cristalli liquidi danneggiati Vedremo insieme se varrà la pena riparare o non riparare il cellulare Oppure se converrà a comprare uno nuovo ad esempio Insomma vedremo cosa fare, scopriamo tutto insieme, tutto subito dopo la sigla Prima di vedere insieme cosa fare nel caso in cui hai i cristalli liquidi dello smartphone danneggiati Ci tengo a ricordarti che in descrizione di questo video potrai trovare i nostri riferimenti social Seguendo le nostre pagine sulle varie piattaforme social Potrai rimanere aggiornato su novità che riguardano il mondo iTech in particolare Così come news e anche aggiornamenti sull'uscita di nuovi video qui sul canale YouTube Inoltre troverai sempre in descrizione di questo video e al primo commento Il link che ti porta all'articolo di riferimento di cui è tratta questa video guida E all'interno del quale appunto puoi approfondire quello che è il tema del danneggiamento dei cristalli liquidi E cosa fare nel caso specifico, cosa conviene fare Ed infine sempre in descrizione di questo video e al primo commento Troverai il link che ti porta al canale Telegram dedicato all'offerte In particolare dedicato all'offerte coupon e sconti Dove il team di Infodrones va a scoprire e a mettere a disposizione all'interno del canale Quelle che sono le migliori offerte ma anche coupon e sconti che si trovano sul web Ad esempio su siti come Amazon, eBay, Gearbest e tantissimi altri Se sei interessato ti basta unirti al canale E se non hai Telegram scaricare l'applicazione di Telegram che è totalmente gratuita E poter poi unirti al canale Sicuramente se come tutti noi ormai il 99,9% delle persone hanno uno smartphone E i cristalli liquidi sono uno degli elementi più fondamentali per l'utilizzo e il funzionamento di questi dispositivi E ovviamente da quando poi c'è stato il passaggio da dei telefoni a tastiera Che funzionavano solo a tastiera a dei telefoni touchscreen Questi cristalli che ormai ognuno di noi ha a disposizione nel proprio device Sono diventati fondamentali E potrebbe succedere che questi cristalli appunto si danneggino Oppure con il tempo o per l'usura O per il caso di cadute accidentali che cavano purtroppo a tutti noi Questi vengono danneggiati Anche se vi sono dei, in quest'ultimo caso, anche se vi sono dei kit per il ripristino dei cristalli liquidi Sono assolutamente da sconsigliare perché ci vuole l'intervento di un professionista Ma questo già per aiutarti a evitare quella che è la prima soluzione che fanno molti E cioè quella di ovviare in maniera, fai da te, in maniera provandoci in qualche modo Ecco, questo se ti sta capitando che il telefono cristalli liquidi del tuo telefono si è danneggiato Si è usurato, è accaduto, c'è stato un problema Evito assolutamente di tentare in qualche modo di ripararlo Finirai alla fine per peggiorare la problematica Ovviamente è da scongiurare anche il fatto che, cosa molto rara Che il cristallo liquido si è danneggiato Già tra virgolette per colpa della fabbrica di produzione E in casi dove questo capita, cioè che abbiamo un danneggiamento dei cristalli liquidi È perché effettivamente è successo un evento che è caduto il cellulare, per esempio Oppure, come il cellulare ce l'abbiamo da tantissimo tempo E l'usura, vuoi il tempo, vuoi questo e questo imprevisto E il cellulare si ha il cristallo liquido danneggiato Come fai a accorgerti e ad avere la conferma che i cristalli liquidi del tuo cellulare si siano danneggiati? Te ne accorgi immediatamente perché sullo schermo del telefono appaiono delle macchie bianche O delle macchie nere Questo causa che è impossibile la visione delle icone e delle scritte Un altro segnale inconfutabile Vedi i propri cristalli liquidi danneggiati Ora andiamo alla questione un po' più centrale, no? Cioè, ok, una volta che tu hai sodato Hai evitato i rimedi fai da te Cosa che io ti sconsiglio assolutamente perché vai a danneggiare ancora di più Ora che hai capito che se ci sono delle macchie nere O delle macchie bianche sullo schermo del tuo smartphone Si tratta appunto di un danneggiamento del cristallo liquido O comunque si vede proprio che le icone del tuo cellulare non riesce a vederle Quindi c'è un danneggiamento importante Quindi la domanda è riparare o non riparare il cellulare? Ora, se per esempio tu quando vai a accendere il tuo smartphone Se questo è danneggiato Sono presenti delle righe verticali di diversi colori Può succedere infatti che si siano rotti i cristalli liquidi Ma non lo schermo E questo tipo di danneggiamento spesso capita Perché c'è stata anche una forte pressione Che ha generato un trauma dall'esterno Mentre la parte interna dove appunto si trovano i cristalli liquidi Rimane praticamente intatta Ovviamente rispondere alla domanda se riparare o meno La risposta è dipende Perché se il telefono dipende dal modello del telefono Dal tipo di modello E dalla spesa che abbiamo sostituito Dalla spesa che hai effettuato Da quanto hai pagato il tuo cellulare E quanto dovrai spendere per ripararlo Quindi se un cellulare tu l'hai pagato 100€ Per ripararlo ce ne vogliono 80 Non vale la pena Quindi in sostanza più il telefono ha valore E più semplicemente vale la pena ripararlo Allora altra cosa che bisogna tenere in considerazione È che i ricambi generali hanno un costo specifico Se il telefono che tu hai, possiedi E che ha subito un danneggiamento dei cristalli liquidi È di ultima generazione E quindi come spesso capita Prendiamo un iPhone Che ha il suo prezzo abbastanza elevato La scelta di riparare è senza dubbio la scelta migliore In ogni caso però Visto che ogni modello è un caso a sé Ti conviene informarti Prima di portare le riparazioni Per capire a grandi linee Quale sarà insomma il prezzo Come funziona in generale La riparazione del tuo modello di cellulare Per quanto riguarda Chi affidarsi per la riparazione del cellulare Mi raccomando Evita tutte quelle persone Che si improvvisano in questo mestiere Riparare cristalli liquidi Riparare insomma uno schermo danneggiato Farne un caso affine ai cristalli liquidi È un qualcosa che non si improvvisa È un qualcosa che ci sono dei professionisti Che fanno questo lavoro tutti i giorni In base al modello ovviamente dovrai rivolgerti a un determinato tipo di assistenza Più altra cosa Se hai un modello particolare cellulare Rivolgiti a quell'assistenza specifica Che così è come per le auto Se tu dovrai decidere di portare per esempio Una BMW a riparare Facendo il paragone che la BMW è come un cellulare costoso Tu ti converrà a portare la BMW Dal riparatore specializzato in BMW Così saprai che lui tutti i giorni ripara delle BMW Avrai una certezza abbastanza alta Che rivalerà quest'auto in maniera professionale E tu potrai riavere Pagando la riparazione Un'auto che è tornata perfettamente funzionante Stessa cosa vale per il cellulare Allora Fatto tutto questo discorso Che riguarda appunto sul danneggiamento dei cristalli liquidi State adesso a decidere Informandogli un po' Cercando su internet informazioni sul tuo modello A decidere cosa fare e a chi affidarti Ti ripeto ovviamente due cose molto importanti Che abbiamo detto in questo video Il primo è di non provare tu a riparare il tuo cellulare Ad esempio con dei kit che vi sono presenti online Che molto spesso ti vendono l'idea di riparare In maniera fai da te il cellulare Il tuo smartphone Cosa che assolutamente noi ti sconsigliamo E seconda cosa quello di portare il tuo smartphone In un centro specializzato E comunque in particolare Se si tratta di un modello che hai pagato In ultima generazione Vale quasi sempre la pena ripararlo Detto questo Prima di salutarci Ti ricordo che in descrizione di questo video Potrai trovare il link che ti porta All'articolo di riferimento Da cui è tratta questa video guida E ti invito ad andare a leggere Così potrai approfondire il tema dei cristalli liquidi Del danneggiamento dei cristalli liquidi Dello smartphone E all'interno dell'articolo di riferimento E al primo commento troverai anche Il link che ti porta Al canale telegram dedicato a Coupon sconti offerte Che vengono selezionati dal team di Infodrones E quindi tu unendoti al canale telegram E ricevere comodamente sul tuo cellulare Offerte che riguardano i maggiori siti Come Amazon, eBay, Gearbest E tantissimi altri siti Quindi se sei interessato Unisciti al canale È totalmente gratuito Insomma avrai tutti questi vantaggi Se questo video ti è piaciuto Mi raccomando lascia un bel mi piace E ti invito inoltre ad iscriverti al canale Attivando anche la campanella Così non ti perderai l'uscita di nuovi video Qui sul canale Infodrones Per questo video è tutto E a me non resta che darti appuntamento Alla prossima video guida Ciao